Onorevole Nicola Fratoianni, sinistra italiana, perché no? Perché questa è una pessima riforma, una riforma che non modernizza, ne rende più efficiente il Paese, anzi se possibile lo complica, passiamo per dirlo una battuta che mi pare molto reale, da un bicameralismo perfetto, paritario a un bicameralismo pasticciato. Ed è una riforma che soprattutto, e questo mi pare decisivo, riduce la qualità e la quantità della democrazia italiana. Quello che dovremmo chiederci è quanto contiamo noi, ognuno, ciascuno e ciascuna di noi, dopo il 4 dicembre se dovesse passare il sì, conteremmo meno. Questa riforma toglie potere, o meglio toglie potere a chi ne ha già poco, ne dà di più a chi ne ha già troppo. Mi pare una buona ragione per contare noi.